In questa guida di Horizon Forbidden West DLC Burning Shores vi mostrerò quali sono le risposte, o meglio, quali sono i codici da dare alla console nel Pangea Park per completare il quiz. Innanzitutto partiamo col dire cosa sono le statuette di Pangea. Va da sé che non è necessario né sapere cosa sono né raccoglierle per poter terminare il quiz. Ovviamente se guardate la soluzione se state guardando questo video, se invece volete fare le cose da soli, allora in quel caso dovreste prendere tutte e cinque le statue, leggerne la descrizione e poi rispondere correttamente con il codice che troverete proprio nella descrizione di quest'ultime. Ma comunque sono dei collezionabili reperibili nel DLC Burning Shores e che troverete sparse per l'arcipelago. Vi lascio qua in sovrimpressione una mappa su dove potete recuperare queste statuette e ricordatevi soltanto che non troverete subito la statuetta dove c'è segnata sulla mappa. Ma magari lì troverete il primo indizio, poi vi dovrete spostare un pochetto. Mi raccomando, ispezionate sempre con il focus, quello dettagliato, schiacciando insomma la levetta. In quel caso poi troverete, che ne so, dei moduli chiave, troverete dei passaggi sotterrani dove dovrete scendere, scendere, scendere fino a prendere la statuetta. Una mi sembra si trova addirittura in un cofano di una macchina. Insomma, date voi la caccia a queste statuette, io vi ho lasciato la mappa. Ma adesso passiamo invece al quiz. Il quiz che si trova qua al Pangea Park, che tra l'altro vi ci porterà una missione principale, è risolvibile in teoria soltanto dopo aver preso le 5 statuette, perché come già detto la risposta si trova nelle statuette stesse. Ma nella versione italiana c'è un piccolo problema. Infatti, evidentemente, durante la fase di traduzione si sono dimenticati di mettere un codice, quindi non è completabile se non con una soluzione come quella che vi sto portando io, o insomma una che trovate online tranquillamente. Magari quando pubblicherò questo video avranno già risolto il problema, ci sta, visto che è una cosa molto veloce. In ogni caso io vi darò le risposte corrette. Allora, qui ci sono varie console, come vedete. Una, due, tre, quattro e cinque, esattamente come il numero delle statuette. Partiamo da questa qua a sinistra. Sinistra, naturalmente, venendo da dove sono arrivato io, ovvero da qua. Ok? Eccoci. Ci avviciniamo e andiamo ad inserire il codice. Poi vediamo anche la ricompensa. Ok. Andiamo a immettere il codice corretto. Me li sono segnati qua. Il primo è 6, 8, 3, Sì. Olè. Potete farlo nell'ordine che volete, naturalmente, in questo caso. Fate prima se seguite il mio ordine. Altrimenti ascoltate la risposta e rispondete di conseguenza, ricordandovi i codici. Vai. Secondo. 4, 3, 3, 1. Ok. Siamo veloci, non ascoltiamo nemmeno la domanda. In realtà non è difficile per nulla. Dopo vi faccio vedere i codici. Però quella mancanza vi impedisce di completare. ok. Pirlone. Il quarto è 7, 8, 5. Ok. E l'ultimo. E l'ultimo è 10, 51. Eccoci a Dino Digits. E la prossima domanda è... Voilà. Convimenti! Hai vinto Dino Digits. Riceverai il premio... Oh, vabbè. Una trasmissione speciale da oltre i portali. Beh, io ho finito. Grazie per aver giocato. Un saluto dal vostro cretino. Ce l'hai fatta. Ho poco tempo, ma dovevo contattarti a ogni costo. Sarò pure la migliore cacciatrice di dinosauri del multiverso. Ma devo inchinarmi alla tua abilità nel rintracciare tutti questi predatori preistorici. Quindi. Ah, cavolo. Queen Rex è di nuovo sulle tracce di tre. Pittura facciale. Scusa, devo scappare. Ci vediamo a Pangea. Pittura facciale. Un audio. Punti abilità. Punti esperienza. E il trofeo. Chiaramente tutte cose utili. Soprattutto anche per il 100%. Ok. Come vedete qui poi sparisce il simbolino perché c'era la missione proprio attiva. E vi dicevo, nel taccuino, se andiamo su oggetti, se volete vedere, verificare i codici, li trovate qua. Cliccando su uno, troviamo le cifre. 785 è una delle risposte che vi ho dato prima. Un'altra è 6837. E così via. Questi qua ci sono tutti. 378. E poi questa c'è la scritta scappare da circa 1051. Ok. Ma nella prima non c'è il codice. In questa qua non è 279. Manca il codice. Ho provato a cambiare la lingua e il codice è presente. Vabbè. Una piccola svista. Ci rivediamo sul secondo canale con la serie di Burning Shores. Vi ricordo di iscrivervi. Trovate tutti i link qua sotto nella descrizione. Tra l'altro la serie ormai è praticamente finita. E con altre serie poi sia sul secondo canale che con contenuti qua sul primo. Alla prossima! Ciao!